Gli gnocchetti sardi al salmone in salsa di yogurt sono un primo piatto delicato in cui la cremosità dello yogurt bianco si sposa perfettamente con il salmone affumicato. Scopriamo subito come preparare gli gnocchetti sardi al salmone in salsa di yogurt. Per prima cosa mettiamo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Quando bolle aggiungiamo gli gnocchetti sardi mentre la pasta cuoce prepariamo il sugo. Tritiamo finemente lo scalogno e facciamolo appassire in padella con una noce di burro. Aggiungiamo poi il salmone tagliato a listarello. Lasciamo rosolare qualche minuto e sfumiamo con il vino bianco. Quando l'alcol sarà evaporato spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare per qualche minuto. Aggiungiamo poi lo yogurt bianco e mescoliamo per amalgamare bene. Quando gli gnocchetti sono pronti scoliamoli e facciamoli saltare in padella insieme al sugo di yogurt e salmone. Impiattiamo e guarniamo con qualche listarella di salmone tenuta da parte e una generosa spolverizzata di prezzemolo. Ed ecco qui gnocchetti sardi al salmone in salsa di yogurt. Un primo piatto facile da realizzare, dedicato e raffinato. Scopri tutta la gamma di yogurt Arborea.